Conosco una bambina difficile. È facile essere una bambina difficile, sì. Se non hai paura di cadere quando vai fortissimo in bici, se preferisci arrampicarti sugli alberi invece che giocare alle principesse. Se ti dicono di non giocare a calcio con i maschi e tu non capisci bene il perché, se hai l'impressione che quando ti chiedono di fare la brava, intendano solo farti stare zitta, insomma ogni volta che non sei ciò che si aspettano da te, allora ecco, ecco. Almeno una bambina così la conosci di sicuro, no? Magari quella bambina sei tu, eh? Una cosa che devi sapere però è che l'essere difficili non dipende davvero da come sei, ma solo da come ti vedono. Succede quando gli occhi degli altri pretendono di vestirti del colore che vogliono loro. Per esempio la bambina difficile che conosco io a otto anni si chiama Viola. A rispetto del suo nome le piace tanto il blu. Viola i colori li scrive tutti con la maiuscola perché per lei sono proprio come le persone, eh? Ciascuno è unico. Per questo stanno bene insieme così non si sentono soli, l'ho sentita dire una volta. E da allora i colori li scrivo tutti con la maiuscola anch'io. Sì, il blu è da sempre il suo colore preferito. Preferitissimo, dice lei, perché è il colore del mare, di Stitch e degli occhi della mamma. Viola lo ama quando è chiaro come l'acqua, quando è scuro come la sera, quando è brillante come il cielo d'estate, in tutte le sue sfumature. E ogni tanto qualcuno le dice che il blu non può piacerti davvero. Il blu è dei maschi, a te deve piacere il rosa perché sei una femmina. Glielo dicono i bambini e le bambine, ma certe volte pure gli adulti. A Viola non sembra che lo dicano per scherzare. Se lo sente ripetere soprattutto a scuola dove va tutte le mattine con il suo zaino azzurro, sì, oppure d'inverno quando la prendono in giro per il cappottino celeste che le ha cucito la nonna. Nella scuola di Viola forse così anche nella tua non si può scrivere con la penna blu. Per i quaderni si devono usare solo penne con l'inchiostro nero. Le hanno raccomandato le maestre il primo anno e nessuno le ha mai spiegato bene il perché. Viola abita in un paesino in collina pieno di alberi, in una casa gialla con un grande giardino e nel suo giardino ci sono tre peschi o un melo. Chissà perché i peschi, si domanda spesso Viola, hanno un nome da maschi ma fanno i fiori rosa. Il melo lo stesso, eh? Anche di se di rosa ha solo i boccioli. Insomma, questa cosa dei colori e dei nomi delle cose da maschi e delle cose da femmine Viola non l'ha mai capita bene del tutto. Così un giorno decide di chiederla al suo papà che di lavoro fa il pittore e di colori se ne intende. È maggio, è venerdì pomeriggio, il cielo è azzurrissimo, il papà è in giardino che cura le genziane. A proposito, le genziane hanno un nome da femmina eppure fanno i fiori blu. Però ai fiori, per fortuna, nessuno dice niente. Non è come con le persone, pensa Viola. Un fiore va bene a tutti così com'è. Papà, perché il rosa deve essere per forza il colore delle femmine? E il blu deve essere per forza il colore dei maschi? Eh? Chi lo ha deciso? Eh? E perché non ci hanno chiesto prima cosa preferivamo? Papà, perché per i maschi le femmine non possono correre fortissimo, andare nel bosco, fare abbraccio di ferro? Eh? E perché le bambine non possono giocare a calcio con i maschi? Papà, ma io sono una donna libera? Questa è Viola. È una bambina difficile, sì, che fa tante domande, tante. E le fa il suo papà, che è un pittore e che ha scelto di lavorare a casa per avere più tempo per stare con lei, mentre la madre, che fa l'ingegnere, è spesso fuori casa. E il papà di Viola prova a rispondere a questa adorabile piccola donna impaziente di crescere.